Musica Ai domiciliari il sindaco di Praia a Mare Antonio Pratico per la procura di Paola avrebbe istruito bandi concordati con gli amici imprenditori 9 legare nel mirino della magistratura, 14 le persone indagate Il commissario Guido Longo racconta la sanità calabrese all'antimafia, parla delle aspe e delle infiltrazioni mafiose Cambiano le regole per definire i colori delle regioni, scompare l'RT, cosa rischia la Calabria? Intanto oggi 327 casi e 4 decessi Il nuovo palazzetto dello Sport di Rende sarà centro vaccinale in grado di somministrare 1000 vaccini al giorno Trovata morta una donna di 68 anni a Cosenza, l'autopsia stabilirà le cause del decesso Buonasera dalla redazione del TGTN, dunque 14 indagati nell'inchiesta denominata Amici in Comune coordinata dalla procura di Paola, appalti pilotati, 9 legare all'attenzione delle fiamme gialle ai domiciliari il sindaco di Praia a Mare, sentiamo Gare d'appalto pilotate finisce ai domiciliari il sindaco di Praia a Mare Antonio Pratico L'operazione denominata Amici in Comune è seguita dalla Guardia di Finanza di Cosenza coordinata dalla procura di Paola, coinvolti oltre al primo cittadino anche un dirigente dell'ufficio tecnico del comune dell'Alto Ionio Cosentino, Giovanni Antonio Argirò anche per lui disposta alla misura cautelare dei domiciliari Notificati i provvedimenti che riguardano il divieto temporaneo a contrarre con la pubblica amministrazione per 12 mesi a 8 imprenditori, tra cui l'ex sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia Tutti sono accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, rivelazione di segreto d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico In totale 14 gli indagati, 9 le procedure di gara finite nel mirino delle fiamme gialle relative al periodo 2019-2020, tra le irregolarità emerse nel corso delle indagini c'è da segnalare ad esempio la gara relativa all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuole primarie e secondarie in cui i pubblici funzionari indagati avrebbero concordato con l'imprenditore futuro aggiudicatario del bando l'esclusione dal percorso del bus di una località del comune in quanto zona extraurbana e quindi troppo dispendiosa per la ditta aggiudicataria Altro episodio agli atti delle indagini riguarda l'assunzione a tempo indeterminato di un operaio specializzato nell'ambito di un concorso pubblico al fine di favorire uno specifico candidato gli indagati avrebbero fatto pervenire allo stesso le domande da imparare a memoria al fine di sostenere la prova che chiaramente è stata superata dallo stesso candidato un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro è stato evidenziato questa mattina dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruni che ha parlato di fatti gravi, di plurime condotte collusive che danneggiano gli imprenditori onesti i quali restano esclusi dai bandi pubblici La sanità adesso, il commissario Guido Longo racconta quella calabrese alla commissione antimafia, parla delle ASP, delle infiltrazioni mafiose Parla di bilanci dell'ASP di Cosenze e di ingerenze con l'Andrangheta in tutta la sanità calabrese, il commissario ad acta Guido Longo in audizione davanti la commissione parlamentare di inchiesta sulla criminalità organizzata Non da adesso ma da parecchi anni a questa parte nella sanità calabrese è stata presente e per certi versi lo è a tutt'oggi perché le recentissime indagini della procura distruttuale di Reggio Calabria e di Catanzaro lo dimostrano purtroppo è successo e sta succedendo che l'Andrangheta è presente nella sanità calabrese non si può omettere di riferirlo e non si può limitare a dei casi eccezionali abbiamo tre bilanci, 15, 16, 17, dichiarati falsi al momento sarà difficile a meno di grossi miracoli infatti ho chiesto una proroga ai tavoli del MEF del Ministero della Salute per allungare la tempistica per la presentazione dei bilanci 18, 19 e 20 non so se me la diano perché in caso contrario va a decadenza l'attuale commissario straordinario per legge non sarebbe, debbo essere sincero, giusto ma la legge è questa non sarebbe giusto perché non ha responsabilità in quello che è successo in passato obiettivamente insomma questo per quanto riguarda Cotenza per non dire dell'aspetto di Reggio Calabria che è stato sciolto per mafia il mandato dei commissari straordinari nominati per lo scendimento antimafia l'11 marzo dall'11 marzo c'è un commissario straordinario nominato da me appena dopo l'insedimento di questo commissario straordinario c'è un'altra operazione questa volta antimafia del DDA di Reggio Calabria che porta all'arresto di medici dirigenti e personale vario perché responsabili di essere in tranei alla cosca Pio Malli Longo parla inoltre delle indagini in corso per far luce su episodi dei cosiddetti furbetti del vaccino che avrebbero ottenuto l'inoculazione del siero pur non avendone diritto sono verificati dei casi di vaccinazioni un po' fallocchie tipo quello di fili e quell'altro là dei maturanti sanfili e cariati in cui praticamente sono stati vaccinati contravvenendo alle disposizioni che era stata data a livello di commissariamento centrale del generale Sigliuolo perché le disposizioni non erano quelle comunque si è proceduto a riferire all'autorità giudiziaria per cui se la vedranno con il procuratore di Cosenza c'è anche Luzzi la stessa cosa è successa per Luzzi è stata fatta a livello di Asp di Cosenza una commissione di controllo dell'attuazione del sistema vaccinale e quindi con l'obbligo tassativo di riferire alle procure della Repubblica competenti e a proposito di Asp sequestri per 4 milioni ad un laboratorio di Siderno fatture pagate due volte all'Asp di Reggio rinvio a giudizio per 19 persone l'ex commissario straordinario dell'azienda è tra loro sequestro e segnalazione di danno erariale per oltre 4 milioni di euro allo studio radiologico di Siderno eccellenza nel campo della diagnostica per immagini finito in un'inchiesta della Guardia di Finanza denominata BIS secondo le fiamme gialle e la procura di Reggio Calabria l'azienda sanitaria provinciale pagò due volte fatture presentate dalla struttura privata nella ricostruzione fatta dagli investigatori nel 2015 la Regione e appunto l'Asp raggiunsero un accordo transattivo tra capitale, interessi di mora e spese legale di oltre 7 milioni e 900 mila euro con lo studio radiologico l'accordo era basato su asseriti dalla struttura privata crediti mai riscossi secondo la magistratura e le fiamme gialle una parte cospicua corrispondente appunto a 4 milioni di euro era stata invece già pagata da qui l'inchiesta e la formalizzazione di reati che vanno dal falso ideologico alla truffa aggravata per 19 persone tra loro ex dirigenti dell'Asp uno di questi è Santo Gioffre per soci considerati occulti e i vertici del centro tra gli indagati anche l'ex assessore regionale al bilancio Maria Teresa Fragomeni nel marzo scorso per tutti gli indagati c'era stata la richiesta di rinvio a giudizio in fase di allestimento e parliamo di vaccini un nuovo centro si tratta del palazzetto dello sport di Rende dove si prevede la somministrazione di mille vaccini al giorno il palazzetto dello sport di Rende diventa centro vaccinale in corso i lavori per l'allestimento l'Asp di Cosenza dunque accelera sui vaccini nel nuovo centro saranno oltre 10 le linee vaccinali ma quanti vaccini potranno essere somministrati al giorno? qui noi abbiamo l'esperienza positiva del palo acquatico siamo arrivati 700, 800, 900 anche quindi qui secondo me la potenzialità è maggiore quindi qui possiamo andare sicuramente oltre 1000 al giorno nessun problema sottolinea il commissario dell'Asp di Cosenza nell'approvvigionamento dei vaccini adesso i vaccini stanno arrivando insomma e quindi più ne facciamo e più ne arrivano quindi io chiedo ai miei di vaccinare 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 e mentre prosegue la campagna vaccinale bisogna gestire anche l'emergenza sanitaria l'Asp ha ampliato i posti letto negli ospedali di periferia siamo arrivati a 100 posti presso l'ospedale di Rossana abbiamo ampliato siamo arrivati fino a 38 abbiamo ampliato sul cetraro ho trasformato la medicina in medicina covid abbiamo aumentato anche 4 posti ad Acri e poi ultimamente insomma abbiamo deciso di rispettare quella che era insomma la decisione del presidente Spellì di questo ospedale dell'area nord l'abbiamo realizzato ed era da realizzare a Rogliano e quindi anche noi abbiamo contribuito con 15 posti letto campagna vaccinale che dal lunedì apre anche agli over 40 intanto la fondazione Gimbe definisce le vaccinazioni Pfizer dipendenti si allungano i tempi per la somministrazione delle seconde dosi sentiamo e il generale Figliuolo a dettare la linea dal lunedì aperta la piattaforma per le prenotazioni agli over 40 previsti inoltre bilanciamenti ulteriori sul vaccino AstraZeneca che sarà dirottato alle regioni che ne hanno fatto richiesta ossia Veneto Lombardia e Piemonte giugno dice il generale sarà il mese decisivo oggi è la fondazione Gimbe a definire la campagna vaccinale Pfizer dipendente con la necessità di dilatare i tempi di somministrazione delle seconde dosi a 42 giorni l'esigenza da cosa nasce? Dall'esigenza di fare una prima inoculazione a tutti quanti metterli in parziale diciamo protezione poi aspettare una seconda un secondo momento in cui i vaccini magari saranno più disponibili e questo forse è l'esigenza avere disponibilità di vaccini per le seconde dosi che se ritardate non è detto che non funzionino però certamente non seguono un protocollo già stabilito quindi il rischio è che il vaccino sia inefficace? è minimo devo dire che è minimo però le regole dicono di seguire determinate indicazioni della ditta produttrice quindi ci prendiamo un rischio un rischio che è calcolato e che mette in sicurezza magari tutti quanti quelli possibili in attesa di un secondo richiamo che verrà un po' più tardi non dovrebbe cambiare niente però stiamo andando incontro a qualcosa che non abbiamo mai sperimentato prima quindi ci vuole cautela proprio ieri la precisazione di Pfizer non ci sono i dati ma gli esperti concordano il rischio è minimo tutte le sperimentazioni sono state fatte con un richiamo a 21 giorni quindi il vaccino è stato licenziato proprio per questo uso una prima dose e poi richiamo ad una determinata tempistica quindi sovvertire queste tempistiche non ci dice se avremo successo in futuro o no perché non c'è sperimentazione che lo possa testimoniare e cambiano i parametri per attribuire la colorazione alle regioni ci sono nuovi criteri che entreranno in vigore dalle prossime settimane sentiamo cambiano i parametri per attribuire la colorazione alle regioni ecco i nuovi criteri che potrebbero presto essere presi in considerazione per la valutazione del rischio nelle varie aree sentiamo Francesco Branda ricercatore Unical i nuovi parametri che ci stanno studiando al governo sono l'R ospedaliero che andrà a sostituire oppure avrà un peso minore sicuramente nelle scelte dei colori di R con T abbiamo questo R ospedaliero che va a non contare più sul numero dei contagi ma va a fotografare la situazione negli ospedali quindi va a vedere quanto i vari reparti sono sotto stress quindi in particolare la percentuale di occupazione dei posti letti in terapia intensiva e dei posti letti in area non critica quindi non terapia intensiva in Calabria al momento siamo come occupazione di posti letto in terapia intensiva al 18% quindi ben al di sotto della soglia fissata dal ministero che è del 30% mentre siamo al di sopra della soglia del 40% quindi 41% rispetto a quanto fissato dal ministero che è del 40% il dato nazionale ci parla di occupazione di posti letto in terapia intensiva del 22% invece di quelli in area non critica del 23% quindi questo è il primo parametro che si vorrebbe andare a introdurre nelle prossime settimane un secondo parametro è l'incidenza l'incidenza che si calcola in maniera molto banale come il numero di nuovi casi positivi nella settimana di riferimento diviso il numero della popolazione del territorio che si considera per 100.000 abitanti al momento il governo sta valutando per ogni area i seguenti valori oltre 250 nuovi casi su 100.000 abitanti zona rossa zona arancione tra i 150 e i 250 zona gialla tra i 50 e i 150 zona bianca fino a 50 casi al momento nella settimana scorsa la Calabria ne ha contati 119 quindi valore da zona gialla mentre il dato nazionale al momento porta all'incidenza al 111 quindi valori che sono sicuramente migliorati nelle ultime settimane un altro parametro di cui si sta discutendo è il numero di tamponi qui bisogna capire se il numero di tamponi verrà fissato come proporzionale alla popolazione di ogni regione oppure se per ogni area di rischio ci sarà un valore minimo da fare infatti la Calabria purtroppo è una delle regioni che fa meno tamponi il dato nazionale parla di 3.324 tamponi per 100.000 abitanti in Calabria 1.392 quindi purtroppo in Calabria il virus si cerca ancora troppo poco quindi facendo un'estrema sintesi degli indicatori regionali della settimana scorsa possiamo vedere come un miglioramento c'è stato e come una variazione percentuale di nuovi casi meno 13% incidenza meno 18% purtroppo questo triste dato dei decessi più 60% rispetto alla settimana scorsa però abbiamo un maggior numero di guariti e questi ospedali che cominciano a respirare registrando un meno 3,5% dei ricoveri e un meno 29,2% di posti occupati nelle terapie intensive anche per quanto riguarda la vaccinazione stiamo andando molto bene e non si sa se anche questo parametro verrà valutato prossimamente infatti possiamo notare come il trend sia ancora sempre molto alto abbiamo somministrato meno dosi ma è comunque un numero molto elevato rispetto alle altre settimane e soprattutto il dato importante è che abbiamo circa raggiunto il 70% oltre il 70% dei vaccinati degli over 80 e 90 quindi stiamo mettendo sempre di più al sicuro le persone più fragili quindi come nuovi parametri la Calabria sembrerebbe essere avvantaggiato meglio sembrerebbe essere in un punto importante della propria corsa e lotta contro il covid dati che porteranno si spera nelle prossime settimane anche ad un sensibile calo dei contagi e anche dell'ospedalizzazione delle vittime che sono quattro oggi con 1.100 vittime il totale dall'inizio della pandemia sentiamo in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 753.305 soggetti più 3.306 rispetto a ieri le persone risultate positive al coronavirus sono 63.962 più 327 rispetto a ieri i casi confermati oggi sono così suddivisi Cosenza 110 Catanzaro 46 Crotone 40 Vibo Valencia 15 Reggio Calabria 116 da altra regione stato estero 0 i ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 394 nelle parti di malattie infettive e 28 nelle terapie intensive 4 vittime nelle ultime 24 ore 1.100 in totale dall'inizio della pandemia e sapriamo la pagina di cronaca trovata morta una donna di 68 anni a Cosenza l'autopsia stabilirà le cause del decesso e qui in questa palazzina di via Sibaris nei pressi di via degli stadi a Cosenza che i carabinieri hanno trovato il cadavere di una donna di 68 anni Mirella Spadafora allertati dall'allarme lanciato dai familiari della vittima che non riuscivano a mettersi in contatto con lei sul posto nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti i militari dell'arma oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 in un primo momento si era pensato ad una rapina finita male visto che l'appartamento secondo una prima ricostruzione è stato trovato a suo quadro ma dopo l'arrivo della scientifica che ha avviato i rilievi questa ipotesi ha perso consistenza al termine del sopralluogo effettuato dai militari del reparto investigativo scientifico dei carabinieri e del medico legale infatti si è ipotizzato che il decesso sia avvenuto forse per un malore sul corpo infatti non sono stati trovati segni evidenti di violenza inoltre il fatto che l'appartamento apparisse a suo quadro che aveva indotto a pensare ad un tentativo di rapina finito male è stato ridimensionato dagli accertamenti compiuti dai carabinieri che hanno evidenziato che in casa non mancava nulla e che la vittima che viveva da sola avrebbe avuto delle piccole manie tutte sue il disordine quindi non sarebbe stato provocato da un esterno inoltre non sono stati trovati segni di effrazione sulla porta e anche i vicini hanno riferito ai carabinieri di non aver sentito rumori sospetti la donna separata viveva da sola perché il fio si è stabilito fuori regione adesso sarà l'esame autoptico che verrà effettuato nelle prossime ore a stabilire con certezza le cause della morte intanto ieri nel quartiere popoloso della città c'è stato un viavai di giornalisti e forze dell'ordine appena appresa la notizia frodi nel settore carburanti sequestrati a Reggio Calabria beni per 15 milioni di euro 5 le società coinvolte l'operazione è scattata tra Reggio Calabria e la provincia di Messina l'hanno chiamata in codice metameria dopo che i carabinieri del comando provinciale di Reggio e la procura distrettuale del capoluogo hanno chiuso un secondo troncone di indagine su un asserito sistema criminale che avrebbe consentito a 5 imprese di riciclare soldi violare le norme sulle accise ed emettere fatture per operazioni inesistenti i militari dell'arma hanno sequestrato le aziende interessate all'inchiesta e denunciato 15 persone in stato di libertà l'inchiesta è stata avviata nel 2017 dai carabinieri del ROS attività che ha già portato all'emissione di 28 provvedimenti cautelari indagine incentrata su rapporti tra il clan condello del quartiere archi e imprenditori l'attività odierna è il risultato di un lavoro che ha avuto come elemento principale Francesco Iannò che opera nel settore carburanti in pratica Iannò con la complicità di imprese che erano sui clienti disponendo di una quantità di carburante in nero sottratto ad una compagnia petrolifera reimetteva sul mercato la parte di prodotto nascosta per riciclarla da lì scattava un complicato sistema di fatturazioni e movimenti fiscali che producevano profitti allo stesso Iannò e ai suoi clienti con danno all'erario e alla compagnia petrolifera che distribuiva a Iannò il carburante Un uomo e una donna rispettivamente di 52 e 37 anni sono stati arrestati i carabinieri della compagnia di Rende in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della Procura Repubblica di Cosenza per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minore di 17 anni i carabinieri nel corso di approfondimenti investigativi si sono imbattuti nell'episodio commesso in un comune del Cosentino a giugno del 2020 quando gli arrestati secondo l'accusa hanno attirato con uno stratagemma la ragazzina con la quale c'era un rapporto di conoscenza nell'abitazione della donna la vittima inconsapevole di ciò e confidando nel rapporto di amicizia intercorso con i due è stata costretta a subire atti sessuali di gruppo i due soggetti sottoposti dai resti domiciliari sono responsabili anche per l'abusato della minore in condizioni di inferiorità psichica poiché affetta da un disturbo cognitivo e andiamo adesso a Crotone dove i carabinieri hanno scovato della droga in una scuola abbandonata hanno sgominato una piazza di spaccio e hanno effettuato 11 arresti una scuola abbandonata utilizzata come deposito della droga siamo ad Acquabona quartiere di Crotone alle prime luci dell'alba è scattato il blitz dei carabinieri della città pitagorica 11 le persone arrestate 9 in carcere e 2 ai domiciliari l'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP di Crotone gli indagati sono accusati a vario titolo di detenzione cessione o vendita di sostanze stupefacenti le indagini sono state avviate nel 2020 dopo una perquisizione eseguita nel quartiere Acquabona nei confronti di un 45enne in quella circostanza i militari sequestrarono 200 grammi di cocaina 2 kg di marijuana 226 cartucce calibro 12 un taccuino e anche un apparato DVR collegato all'impianto di videosorveglianza dell'abitazione dell'indagato attraverso il quale venivano controllati e monitorati i locali in disuso dell'ex istituto scolastico gravina plesso Acquabona adibiti al nascondiglio della sostanza stupefacente e del munizionamento grazie all'analisi dei filmati registrati al sistema di videosorveglianza gli inquirenti sono riusciti a delineare il ruolo ricoperto da ciascun indagato nella gestione dell'importante piazza di spaccio le immagini documentano un'incessante attività di cessione vendita di droga spesso anche in presenza di minori durante l'indagine i carabinieri hanno sequestrato 526 grammi di cocaina 2,700 kg di hashish 15 cartucce una pistola marca Beretta con matricola brasa completa di caricatore e un ordigno esplosivo di fattura artigianale la pagina del lavoro con i problemi di rinnovo contrattuale per alcuni lavoratori che sono in servizio alla centrale Enel di Rossano sono in attesa della formalizzazione dell'accordo con Enel per rientrare al lavoro i lavoratori della centrale Covigliano Rossano ai quali è scaduto il contratto e complice un'avvertenza aperta alcuni di loro si sono trovati in una situazione di stallo questi lavoratori hanno avuto scaduto il contratto il 14 aprile doveva essere rinnovato per un pezzo di lavoro che ha aggiuntivo che l'Eno ha dato e che stanno già operando su questo lavoro aggiuntivo alla site che è l'azienda in cui questi lavoratori lavoravano e comunque dovrebbero essere riprese al lavoro con dei contratti sempre a tempo determinato sono rimasti a casa per il semplice motivo che altri due lavoratori che scade il contratto al 28 di maggio che hanno fatto una diffida alla site che hanno richiesto la trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato nei prossimi giorni gli incontri tra i rappresentanti sindacali e i vertici dell'azienda noi abbiamo fatto già una contrattazione con l'Eno l'altro giorno ne faremo un'altra il giorno 17 alle 14 l'Eno devo dire che è stata diciamo sensibile rispetto a accogliere le nostre richieste di darci un piano di occupazionale e di demolizione dell'indotto che ci illustrerà come ripeto il giorno 17 alle ore 14 e adesso la rubrica sulla borsa vediamo chiusura contrastata per le borse europee che si sono risollevate dai minimi interday nel pomeriggio grazie al rimbalzo di Wall Street il sentiment resta comunque diviso tra l'outlook positivo sul recupero dell'economia e timori di pressioni inflazionistiche dopo il report sull'inflazione statunitense secondo alcuni funzionari della Fed il recente picco dell'inflazione è un fenomeno transitorio ma la maggior parte degli operatori continua a temere un tapering anticipato oggi sono stati diffusi i dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli USA in calo a 473.000 unità i prezzi alla produzione sono aumentati oltre le attese ad aprile più 0,6% su base mensile rallentando però rispetto al più 1% del mese precedente mentre su base annua hanno segnato un più 6,2% dal più 4,2% di marzo così il Futsmib e il CAC 40 di Parigi archiviano gli scambi poco mossi più 0,1% mediamente in linea con il DAX di Francoforte più 0,3 l'Ibex 35 di Madrid meno 0,5 il Futsi 100 di Londra meno 0,6 oltreoceano avanzano Dow Jones più 1,1 S&P 500 più 1 e Nasdaq più 0,5 tra i nati dal recupero del settore tecnologico sul Forex l'euro-dollaro torna in aria 1,207 mentre il cambio tra biglietto verde e yen staziona 109,6 accelerano a ribasso le quotazioni del greggio con il Brent meno 2,8 a 67,4 dollari e il WTI meno 3,1 a 64 dollari sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia 118 punti con il rendimento del decennale all'1,05% tornando a Piazza Affari fra le Big Cup chiudono in spolvero Nexi più 3,3% e Prismian più 2,8 entrambe dopo i risultati del primo trimestre oltre a Pirelli più 2,6 in coda invece Tenaris meno 2,3 e Unicredit meno 1,9 grazie e buon proseguimento di serata e vediamo adesso le previsioni in meteo per le prossime ore ben ritrovati da Meteo in Calabria sulla nostra regione permangono condizioni di variabilità con debole instabilità che interesserà principalmente i versanti tirrenici della Calabria centro-settentrionale a causa dell'insistenza del flusso di correnti umide atlantiche le temperature nella giornata di venerdì subiranno un momentaneo rialzo ma già nella giornata di sabato la colonia di Mercurio tornerà a scendere risultando di qualche grado al di sotto delle medie stagionali domani nubi sparse sui versanti tirrenici con possibili deboli fenomeni altrove cielo generalmente sereno o poco nuvoloso temperature in rialzo domani mari generalmente mossi con venti che espireranno dai quadranti occidentali sul mar Tirreno ed ai quadranti meridionali sul mar Ionio per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina facebook Meteo in Calabria TG che finisce qui ci vediamo nelle prossime edizioni grazie per aver seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti